...è smarrita, è sconvolta, è invece tuente, si capisce perfettamente tutto quello che dice, sembra che quello che dici ce lo vuoi spiegare, addirittura dice sembra che si fa l'effetto di un discorso che un confessore fa alla sua penitente, cioè vuol dire che tutto questo non c'è, poi dopo tutta questa tirata, silenzio, si tira una sigaretta dal pacchetto, secondo l'indicazione di Brigitte Jacques. Certo, i tre tempi dei tromboni! Sento tutta la melodia del Walter da Vargasano. È fantastico! Ciao! He Grazie a tutti